Ci sono amarezza, incredulità, dispiacere, ma soprattutto preoccupazione nelle parole del parroco per quanto è avvenuto nella chiesa di Gesù Divino Lavoratore in Borgo Roma, dove alla statua pellegrina della Madonna di Fatima sono state rubate la corona e il rosario. Si tratta di copie, ma anche alcune reliquie originali dei santi pastorelli Giacinta e Francesco, pezzetti di vestiti con i quali sono stati sepolti. Siamo all'interno di una settimana in cui abbiamo la statua della Madonna di Fatima, venerata dai fedeli, visitata da tanti, e ieri purtroppo qualcuno si è insinuato in chiesa, quando io ho chiuso è rimasto nascosto in chiesa e ha prelevato la corona della Vergine, poi un rosario che aveva tra le mani e poi soprattutto il reliquiario con le reliquie dei pastorelli Francesco e Giacinta. Il fatto, ripreso dalle telecamere di sorveglianza, ha lasciato sconcertati parroco e parrocchiani, con il dubbio sull'utilizzo e la destinazione che le reliquie potranno avere. Si teme infatti che il furto non sia avvenuto per denaro, visto che la parrocchia è molto attiva nell'aiutare tanti poveri che bussano alla porta. Perché è inquietante questo fatto? Prima di tutto perché è un'offesa alla sensibilità collettiva della gente. Le persone ieri sera hanno scovolte, oggi è ancora più affrante perché hanno ripensato durante la notte. Tante signore mi hanno detto che non neanche ha dormito pensando a quello che è successo, perché è un'offesa proprio alla nostra religiosità, alla sensibilità religiosa di questa gente. E poi è inquietante perché si pensa a cosa serviranno queste cose. Cioè il valore economico in sé è poco, perché prelevano delle reliquie. Cosa ne faranno? A chi le faranno arrivare? Sono quindi dei ladruncoli però commissionati da altri. Si possono fare tante ipotesi a questo riguardo e questo lascia sconcertati. Il parroco, don Andrea Ronconi, si appella a chi ha effettuato il furto invitandolo alla conversione, messaggio principale della Madonna di Fatima e a restituire le reliquie in una chiesa.